dunque la situazione attuale in cui si trova il nostro paese il nostro popolo richiede una visione chiara della verità e richiede illuminazione sapienza e intuizione per sapere quali sono le cose migliori e più giuste da fare e questo riguarda un po tutti gli aspetti della vita del popolo attualmente perché ci sono situazioni nuove problematiche nuove in tanti ambiti e in tanti settori della vita umana ora l'unico che sa esattamente la verità su tutte queste situazioni su tutte queste cose che stanno accadendo vecchie e nuove e che conosce cause effetti conseguenze e conosce anche le scelte giuste da fare è gesù cristo quindi se si vuole veramente trovare una soluzione che sia buona che sia valida che sia efficace alle varie situazioni problematiche che ci sono in questo momento nel nostro paese nel nostro popolo io invito tutte le persone tutte le persone di buona volontà a pregare e invocare la luce della santa mente di Gesù perché guardate che tutto quello che succede nel mondo dipende da quello che la gente pensa da quello che la gente ha nella testa dai loro pensieri dalle loro menti dalle loro mentalità quindi se si vuole veramente cambiare salvare il mondo e fare del mondo un posto migliore per noi per le nostre figli nipoti per tutti quelli che verranno dopo di noi bisogna cambiare prima i pensieri dell'umanità se si cambiano i pensieri dell'umanità cioè si illuminano le menti degli uomini perché possano vedere chiaramente qual è la verità sulle circostanze sulle situazioni sui fatti e possano anche essere illuminati riguardo alle scelte alle cause agli effetti alle conseguenze allora si possono cambiare tutte le cose quindi io invito tutti responsabili gente che ha responsabilità di qualunque genere ma chiunque tutti a pregare e invocare la luce della santa mente di Gesù guardate questa devozione funziona è efficace è una devozione che funziona che è efficace sappiatelo ora che cosa vuol dire invocare la luce della santa mente Gesù vuol dire innanzitutto pensare a Gesù Cristo e pensare a questo aspetto della persona di Cristo che è la mente di Gesù che cos'è la mente la mente è una espressione dell'anima è praticamente l'anima dell'uomo colta nel suo pensiero nel suo pensare quindi il ricordo la memoria l'intelligenza la volontà tutto quello che riguarda la mente dell'uomo e la mente vi ripeto è una espressione dell'anima e che cos'è la mente di Gesù è il pensiero di Gesù quindi è il suo modo di vedere le cose il suo modo di valutare le cose è il suo modo divino di intuire di sapere esattamente qual è per esempio la cosa più giusta la cosa migliore da fare in ogni circostanza in ogni momento in ogni situazione quindi in un momento come il nostro di cambiamenti di situazioni nuove di problematiche nuove io ripeto invito tutti a approfondire questa devozione alla santa mente di Gesù e a invocare la luce della santa mente di Gesù come si fa a invocare la luce della santa mente Gesù si fa o uno usa delle parole proprie non so Gesù illuminami oppure Gesù con la tua mente illumina i miei pensieri fammi capire fammi conoscere così oppure usa queste invocazioni che sono già state scritte e sono già pronte già fatte dipende a uno come è fatto c'è chi gli piace le cose già pronte usa quelle già pronte chi vuole usare le sue iniziativa usa parole di sua iniziativa di sua volontà ora io vi leggo le invocazioni quelle già scritte quelle già preparate santamente di Gesù insegnaci a pensare la vita e le sue vicende come le vedi tu santamente di Gesù illumina le nostre menti perché possiamo discernere ciò che è bene e ciò che è meglio santamente di Gesù suscita in noi pensieri santi idee sante e la volontà di concretizzarli santamente di Gesù suscita negli uomini pensieri santi e idee sante e la volontà di realizzarli santamente di Gesù e fondi noi la grazia di consolazione e di beatitudine santamente di Gesù e fondi nelle menti degli uomini afflitti la consolazione della grazia santamente di Gesù risana le menti degli esseri umani santamente di Gesù educa alla verità e alla virtù le menti dei bambini e dei giovani e di tutti noi santamente di Gesù proteggi dal male le menti e i pensieri dei piccoli degli innocenti e di tutti noi santamente di Gesù suscita in noi pensieri di amore di adorazione di gratitudine per te per dio padre e per la grazia santamente di Gesù suscita in noi pensieri di benevolenza e amore fraterno per il prossimo per l'umanità intera santamente di Gesù rafforza rinvigorisci irrobustisci la nostra fede la nostra fede in te la nostra fede nel vangelo la nostra fede nell'avvento del regno dei cieli con con la conoscenza della verità. Amen